Salute a tutti e bentornati a Fisicamente Aula Studio. Questo è il secondo episodio della rubrica sulla cosmologia e la relatività generale di Einstein e in questo episodio andiamo a vedere perché Einstein ha introdotto la costante cosmologica nella sua equazione di campo e lo andremo a vedere sviluppando due particolari soluzioni per l'universo e dopo andremo a discuterle. Allora, facciamo un breve riassunto di quello che abbiamo visto la volta scorsa. Abbiamo enunciato l'equazione di campo di Einstein, che è praticamente l'equazione finale della sua teoria della relatività. Abbiamo visto come venivano messe in relazione la parte in cui si spiega praticamente la curvatura dello spazio-tempo con il contenuto dell'universo, questo tensore IK, che è una matrice 4x4. Qua dentro si mettevano tutti i valori relativi alla materia, alla radiazione, a qualsiasi tipo di energia nell'universo e poi si arrivava a definire le equazioni di Friedman, che da una parte avevano A, A primo e A secondo, che non sono altro che il fattore di scala, la derivata prima del fattore di scala e la derivata seconda del fattore di scala. Questi sono quelli che stanno nella parte sinistra delle equazioni. Nella parte destra abbiamo semplicemente dei numeri, delle costanti e quattro parametri. Abbiamo la densità, abbiamo la pressione, abbiamo questa famigerata costante cosmologica e abbiamo un fattore di curvatura, che vale 0 se l'universo è piatto, 1 se ha curvatura sferica e meno 1 se ha curvatura negativa. Come siamo passati dall'equazione di campo all'equazione di Friedman? Allora, prendendo il primo elemento, l'elemento chiamato 00, quello in alto a sinistra, di questo tensore energie impulso, che è questo T di IK, abbiamo ottenuto la prima equazione. Prendendo invece la traccia, ossia tutti e quattro i termini in diagonale, abbiamo ottenuto la seconda equazione. Cosa ci è servito? Ulteriormente in mezzo il principio cosmologico. Questo ci dice, o meglio, noi assumiamo, è un principio, assumiamo che l'universo sia omogeneo e isotropico. Ho fatto un video dedicato per spiegare cosa vogliono dire queste due parole. E questo ci permette di scrivere che la distanza tra due eventi nello spazio-tempo è uguale alla somma della distanza temporale più la distanza nello spazio moltiplicata per questo fattore A, che è chiamato fattore di scala, che è una funzione del tempo. E questo fattore di scala è proprio quello che viene fuori qui nelle equazioni. Quindi con queste equazioni io posso trovare un legame tra il contenuto dell'universo, quindi materia, radiazione, energia oscura e la curvatura. Con questi poi definisco i miei quattro parametri e poi mettendo questi quattro parametri nelle equazioni di Friedman vado a risolvere e ottengo come cambia praticamente alla fine quello che mi serve è solo A, che mi dice come sta cambiando il fattore di scala dell'universo in funzione del tempo. E quindi mi sta dicendo se l'universo si sta espandendo, si sta contraendo e come questo avviene. Allora, detto questo che era solo il recap, e su questo ci lavoreremo non solo questo episodio ma anche il prossimo, andiamo a vedere come possiamo applicare le equazioni per risolvere un tipo di universo. E andiamo a vedere nella fattispecie quello che ho chiamato l'universo Einstein-The-Sitter. L'universo Einstein-The-Sitter si sceglie, si scelgono sotto punti i parametri e si dice Fioi, vogliamo che sia dominato dalla materia, quindi c'ho una densità maggiore di zero, ma non ho pressione perché non c'è radiazione, poi scegliamo che non ci sia curvatura, quindi la parte spaziale sia piatta, quindi vale la geometria euclidea, quindi K è uguale a zero, e scegliamo di dire non c'è l'energia oscura, quindi anche la costante cosmologica, lambda, la metto uguale a zero. A questo punto, se andiamo a vedere queste equazioni e ci mettiamo dentro questi numeri che noi abbiamo scelto, quindi universo piatto senza energia oscura dominato dalla materia, le equazioni di Friedman si risolvono a queste due equazioni. dove, dalla parte di destra, c'ho solo il termine con la densità, densità che è positiva. A questo punto, se noi andiamo a vedere come cambia la densità in funzione del parametro, del fattore di scala A, andiamo a fare un semplice ragionamento, noi sappiamo che la densità è semplicemente una massa diviso un volume, ma un volume, che cos'è? Immaginiamo che il volume sia cubico, è una distanza, una lunghezza al cubo. Ma le lunghezze, come abbiamo visto qua dal principio cosmologico, le lunghezze sono dominate da questo fattore qua, che mi dice quanto le lunghezze si allungano, si accorciano, quindi questo L è proporzionale ad A. Quindi alla fine la densità varia come 1 sul fattore di scala al cubo. A me non interessa avere sempre l'uguaglianza, mi interessa sapere come cresce, come varia. Quindi se A raddoppia, la densità va giù di un fattore 8. Se A si accorcia alla metà, la densità va solo in fattore 8. E' solo questo che mi interessa. Se adesso metto dentro questo coso qua, che mi dice come cambia la densità in funzione del fattore di scala, e lo sostituisco qui, vedo che io posso scrivere un'equazione che mi dice, prendiamo la prima E qua, quindi sostituiamo Rho qua dentro, ma questa prima equazione mi viene fuori che la derivata prima di A diviso A al quadrato è proporzionale a A alla meno 3, ho semplicemente riscritto l'esponente al meno 3. Ci ho messo il proporzionale, quindi sto dimenticando tutti questi fattori qui, e anche la massa qua. Però stiamo semplicemente andando per andamenti. E se io adesso risolvo, vedo che A quadro, A punto al quadrato, quindi la derivata prima di A al quadrato, deve andare come A alla meno 1. E se io risolvo, viene fuori che il mio fattore di scala A cresce come T alla due terzi. Ok? Questa è una funzione a potenza, non è nulla di trascendentale. Vedremo tra poco su un grafico che cosa questo vuol dire. Però l'importante adesso è che con questo tipo di universo, con questa scelta, dominato dalla materia, la materia, la densità, cala come A alla terza. Se lo metto dentro l'equazione, questa è la mia soluzione. Ok? Andiamo a vedere un altro tipo di universo adesso. Andiamo a vedere se ho tutto uguale, quindi non c'è energia oscura, non ho curvatura, ma a questo punto è la radiazione che domina. Quindi c'ho sia un termine di densità, sia un termine di pressione. Se voi vi chiedete adesso come fa la radiazione ad avere una densità, e beh, ragazzi, andiamo a fare questo esercizio. Se io c'ho fotoni, a ogni fotone è associato un'energia, ma Einstein ci dice che l'energia è equivalente alla massa, ed è per questo che c'ho una densità, anche se ho solo dei fotoni. E adesso, come prima avevamo visto che la materia, gli atomi, essenzialmente, tutta la materia dell'universo, cala come il cubo del fattore di scala, adesso dobbiamo andare a vedere come cala la densità della radiazione, quindi dei fotoni, in funzione del fattore di scala. Allora, esattamente come prima, diciamo che è una massa diviso un volume, ma la massa, abbiamo detto adesso, ci dice Einstein che è l'energia diviso c quadro, perché mc quadro è uguale all'energia, quindi questo lo posso scrivere. A questo punto, però, noi stiamo parlando di energia di che? Energia dei fotoni. E l'energia dei fotoni, il signor Planck, ci dice che è uguale alla costante di Planck moltiplicato la frequenza dei nostri fotoni. Questa frequenza dei fotoni la posso riscrivere, la posso riscrivere in funzione della lunghezza d'onda, e allora le cose le posso riscrivere come costante di Planck diviso la velocità della luce per il volume, che è quello che mi portavo via da prima, moltiplicato sotto per la lunghezza d'onda. E allora, se prima il volume andava come A alla terza, vuol dire che questo volume lo riscrivo qui come A alla terza, ma dopo vedo che anche la lunghezza d'onda del mio fotone cresce e cala come A. perché se immaginiamo che tutto lo spazio venga dilatato o contratto a seconda del comportamento di A, la lunghezza d'onda del fotone seguirà esattamente la stessa legge. Quindi alla fine di tutta la storia, la densità di energia, la densità in un universo dominato da radiazione, cala come A alla quarta. Quindi cala più velocemente che non nel caso dominato dalla materia. Però il concetto è esattamente lo stesso. Se adesso metto questa dipendenza nell'equazione di Friedman di prima, mi viene fuori che in un universo dominato dalla radiazione, il fattore di scala cresce come T alla un mezzo. Mettiamoli insieme adesso. Se andiamo a fare un grafico e mettiamo sull'asse dell'X, mettiamo il tempo, questo punto qui è dove siamo noi in questo momento, quindi è ora. se andiamo un po' più a destra abbiamo quello che succederà, abbiamo il futuro. E se andiamo un po' più a sinistra abbiamo il passato, sia quello che è successo finora. Sull'asse delle Y mettiamo proprio questo fattore di scala. E il punto dove siamo adesso, l'universo in questo momento, quant'è il fattore di scala adesso? Sti cavoli. Lo chiamiamo A0. Non è importante quanto è. Diciamo che se va più in su il fattore di scala, allora immaginiamo un universo più grande di quello che è adesso. Se invece andiamo giù abbiamo un universo più piccolo. In questo momento vale A0. Quant'è? Non lo so, ma è qualitativamente il punto dove vogliamo arrivare. Se noi vivessimo in un universo in cui il fattore di scala cresce come il tempo, allora ci muoveremo su una retta. Ok? Quindi ci muoveremo su una retta e fra 13 miliardi di anni avremo che l'universo è tot più grande. Se andassimo 13 miliardi di anni nel passato avremmo che l'universo è linearmente più piccolo, linearmente più grande. Ma adesso noi sappiamo come crescono nel caso dominato della materia, nel caso dominato della radiazione. E come crescono? Come questa linea blu e la linea rossa. Allora vediamo che innanzitutto entrambi in passato, quindi se ci focalizziamo sul passato dalla parte di sinistra rispetto ad ora, vediamo che entrambi questi universi erano un po' più grandi di un universo come se l'universo fosse cresciuto in maniera lineare. Quindi erano un po' più grandi. Però in futuro saranno più piccoli di un universo che cresce linearmente. Altra cosa che vediamo, l'universo dominato da radiazione nel passato era più grande dell'universo dominato da materia. Perché dico che è più grande? Perché punto per punto se mi metto qui e vado a vedere il punto rosso è più in alto del punto blu. Quindi se è più in alto vuol dire che è più grande. ma da adesso in poi l'universo dominato dalla radiazione crescerà più lentamente rispetto all'universo dominato dalla materia. Badate bene che questo avviene semplicemente perché io me ne sto fregando di quanto è a zero. E se io lo sto prendendo ora io ti sto dicendo la seguente cosa. se l'universo in cui viviamo è dominato da materia e adesso e noi siamo qui allora in passato deve essere stato qui. Se l'universo in cui viviamo è dominato dalla materia e noi adesso siamo qua allora nel passato deve essere stato così. E la stessa cosa in futuro ma guardate che questo non vuol dire così o così l'universo è. Sono tutte ipotesi. però è giusto per dirvi che se questo è quello che vediamo adesso e sono in uno scenario dominato dalla materia allora mi aspetto che in futuro l'universo dominato dalla materia cresca più di quello che se fossimo dominato dalla radiazione. Ma nessuno mi sta dicendo che o uno o l'altro sono veri o sono falsi. Questo è giusto per farvi capire come con tutta questa sberla di conti che vi ho fatto vedere prima io con delle assunzioni dominato dalla materia senza curvatura senza energia oscura o dominato dalla radiazione senza curvatura senza energia oscura io posso arrivare a dire l'universo con questa ipotesi cresce o non cresce così o cos'ha. Questo è il modo in cui le equazioni si possono utilizzare. E adesso arriviamo al punto perché Einstein ha dovuto mettere dentro questo termine qui. Questo nella sua prima versione del lavoro non esisteva. Questa era l'equazione. C'era questo affare qua composto da R e I K il tensore di Ricci quello che Einstein scrive alla lavagna se googolate Einstein lavagna una delle famosissime immagini di Einstein meno un mezzo scalare di Ricci per la metrica e poi dall'altra parte c'era subito l'altro termine. L'equazione così vedete che sarebbe la stessa perché tanto io qua ho messo che l'energia oscura è uguale a zero ma se l'energia oscura è uguale a zero vedete che vengono fuori degli universi in cui il fattore di scala deve per forza crescere e Einstein non lo concepiva questo perché per quello che ne sapevano all'inizio degli anni 20 del 1900 l'universo era statico quindi il mio fattore di scala doveva essere piatto in funzione del tempo ma lui ha provato a metterci dentro i numeri senza proprio senza neanche pensarci alla costante cosmologica questi erano gli universi possibili e allora e allora ha detto eh fioi qua da sta parte qua ci devo mettere un termine extra con un certo valore di lambda che non so ma tale in modo da farmi venire fuori una equazione che fosse piatta questo grafico qui è il motivo che ha spinto Einstein a introdurre il termine con la costante cosmologica poi in futuro dirà che è stata la più grossa stupidaggine della sua vita ma questo lo vedremo insieme nella prossima puntata in cui vedremo diversi altri universi con altre curvature con o meno energia oscura e poi andremo a parlare del perché appunto Einstein l'ha considerata la sua cavolata più grande della vita se avete domande come sempre lasciatemi un commento e alla prossima